Va bene, anche qui, dai, siamo a 133 stelle. So good! Vai, andiamo al prossimo. No, un altro di quei livelli con la telecamera che si muove. Preparatevi che qui faccio game over, eh. Prova a tryhardare, eh. Devo anche trovare le stelle qua. Il timbro! Ma là c'è una stella! Eh, ciao. È impossibile, dai. Ok, stella recuperata. Sono morto. Muoio, muoio, muoio. Ok, non è vero. Odio tantissimo questi livelli così io. Ecco. No! No, no! No! No, raga, ma non ho capito il gioco. L'ho missata in una maniera incredibile, però. Ok, altra stella. Niente, sono morto. Rip dark. Allora, wait. Due stelle le abbiamo già recuperate. Me le calcola, perché almeno il gioco non è così infame. Ok, allora, quello che dovevo fare è salire qua. Aspettare che scenda. Non è vero, ci vado io. Prendo l'altra stella. GG. Ottimo. Questo l'ho speedrannato tantissimo. Nei primi Mario, se muori, non ti contavano le stelle. Secondo me perché l'hanno fatto? Per renderlo più semplice. Per aiutare dark. Esatto, è tutto vero. Adesso possiamo salvare la fatina. Sei contento, Ifonso? Che bello. Oh, c'è il livello quello là dove devi speedrannare tantissimo e riprendere le stelle. Ok, sono pronto, sono pronto. Proprio un livello fatto apposta per dark. Pronto, pronto, pronto. No, no, ti giuro, questo... Questi non sono difficilissimi. Ma? Ma come? No, ho capito che devo fare. Dovevo tirare la palla qui. No, non è vera questa cosa. Ok. Ma no, ma li devo fare tutti così, davvero? Non ci voglio credere. Ok. No, ma sono tutti quanti così, potrei impazzire. Ok, il po'. Altra stella. Ok, dai. Completato. Madonna, avevo un secondo! A volte sono bravo, però, dai. A volte. Ma questo blocco gigante? Ma che ca... È un blocco gigante. Ma che vuol dire? Ma da qua è uscita una... Ma veramente? Ma veramente? Io devo perdere così? No, rip! Io non ce la faccio più. Ma io non posso fare queste serate però su dischi. Cioè, io muoio. Io muoio. Io mi sto limitando tantissimo. Grande Dark! Ma non ti devi limitare, sei tranquillo. No, no, no. Perché sennò diventa come noi la sera, capito? Vabbè, noi la sera, però un po' più moderato. E' quel che sto facendo, infatti. Così tanto moderato? Chi era allora? No, ma io puoi saltare addosso! Quanto li odio, quanto li odio. Sono quelli col martello. E anche quelle che ti lanciano le palline infuocate. Eh! Ma è qua la stella! No! No! Luigi, no! Luigi, no! 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 Broder! Eh, lo sapevo. Comunque era la terza, era la terza. E io adesso? No, non ce la faccio mai a sconfiggerlo. Senza farmi colpire. Io credo in te. Nel cuore tuo, Darkito, Darkito. Dai, ed è una? No, 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 no. Mamma mia, quanto hai rischiato! L'ho t'aspirato a rispondere un pixel. Che forte! Che forte che sono! Noi siamo forti! Ma la fatina che dice Help me! Brava! Brava! Cos'è questo? Aha! Ah, è sempre uno di quei livelli bonus dove penso droppi una stella. E invece, Ifonso? Guarda che pro che sono. Mi potevano colpire una sola volta e potevo perdere. Pensa un po'. Cammina da solo! Quanto driftano i Joy-Con, mamma mia. Comunque, uno dei motivi del perché casco fuori dalla mappa è anche proprio questo, eh. Per dire. Mi driftano un po'? Mi driftano un botto i Joy-Con. Stai un po' driftando sui vetri, eh. E non è una scusa, ok? Ma ho un mega déjà vu qua. Perché Luigi? Perché ha preso la ciliegia. È un power-up che praticamente moltiplica i personaggi. No, che roba è... Cioè, non credo proprio di riuscirci. Ma che è? Seriously? Azz! In pratica lo devo colpire quando si splitta del putto? Ehi! Ma cosa? Ok, ed è uno. Un po' complicatino. Dovrei riuscire a prendere la ciliegia, però. È davvero un casino. Ok, ottimo! Bene. Ok. Finito. Possiamo passare al mondo successivo adesso. Luigi ti punta il ferro. Che fai, Iphones? Adesso comunque cambio personaggio. Voglio utilizzare Peach. Ma che è qua? È il mondo a sé. È un castello. È il mondo finale? No, non penso. Siamo Peach. Hello? Non l'ho mai utilizzata, Peach, ancora. Ecco. Siamo bene. Guardate che piccina. Diventa Baby Peach, giustamente. Che bellina. Ma c'ha un mega salto, lei. Però. Il timbro. Va bene. Siamo proprio sicuri che in questo punto no. Ok, la prima stella l'abbiamo recuperata. Il timbro pure. Vai. Guarda che bellina con il power up del fuoco. Ok, ce l'ho fatta. Va bene. Stella recuperata. Va bene. Bravo Dark, come sempre. Sempre una dannata stella manca. Incredibile. È pronto? Toglierò Peach perché è ingiocabile, scusatemi. Proviamo Todd, dai. Proviamo Todd. Questo livello, esattamente. Quindi in teoria ho acceso le lu... No, non è vero. Ah, ma io aspetta. Mi posso accendere chiaramente questi? Mi fanno un po' di luce. Va bene. Sto passando troppe stanze. Ci deve essere qualcosa qua. Ahà. Ho visto un passaggio segreto, forse. Madonna, che occhio! Che occhio! Ecco. Oh, come ho fatto? Come ho fatto? Ormai ti stai skillando nei fail. Non va bene questo, eh. Gli adesso ho una domanda. Ammettilo che tenevi quella skill nascosta. Questo è parlare troppo. Lul! E niente. Ma c'è qualcosa di qua? C'è il timbro! Guarda! Guarda! Cammina da solo! I Joy-Con quando iniziano a driftare è un problema, ragazzi. Sì, nei giochi è davvero un problema. Prendo sto tubo. Dai, vediamo dove mi porta. Mi porta alla fine. Benissimo. Come saltare una stella. Sì, devo prendere un Pro Controller, secondo me. O due giochi nuovi. Meglio il Pro Controller. No, per poco. Come mi dispiace. Faccio game over qua, eh. Aspetta, aspetta. Evito, evito. Guarda, aspetta un attimo. Li evito. Li evito perché mi hanno già rotto le palle. Sì, ma sti cosi non va bene. No, dai, no. Non fatemelo fare. Run, no. 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 Ma qui sotto... Ma qui sotto c'è qualcosa. No, non è vero. Non è vero. Ma come? Cioè, che cosa serve questo livello così? Perdere tempo. Ah. Bello. E a farti fare una vita in più. No, no. Dai, ragazzi. No. Non si può fare questo livello col tempo così. Vai. Ce l'ho fatta. Vabbè, dai, però. Che infamata. Aspetta, ho una vita in più. Ho una vita in più. Due vite in più. Fortissimo, fortissimo. Tre vite in più. Abbiamo tre vite in più. Molto bene. Andiamo bene. Due, 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 due. No, non tre. Due, due. Stella recuperata. Madonna, che boss. E dove spawno adesso? Ah, eccomi. Fiero. Ho passato il timbro. Vabbè, ho preso tutte e tre le stelle. Fa niente. Platinarlo è veramente tosta, ragazzi. Veramente, veramente tosta. Ok, 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 ok. Aspetta che cambio PG. Trovo bene con Luigi. Allora, non so se questa... No, ma non credo. Vediamo un altro. Ecco. Non so. Alfonso, calmami in qualche modo. Fai qualcosa. Eh, nina, nana, nina. No, così... Scusa, no, raga, non ho capito il gioco. Che boss qui. Ma perché? Perché si muove da solo? Perché? Non ce la faccio più. Guarda, guarda. Guarda, guarda le mie mani. Guarda le mie mani. Si è mosso da solo Luigi. Si muove da solo! Ok. Qua non dovrebbe essere un problema. Recupero la seconda stella. Vai. Ed è fatta. So good. Vai. Andiamo avanti. Il problema adesso è... Dov'è l'altra? Penso sia giusto così. Uh, guarda dov'è. Ma io come la recupero? Ah, aspetta, ma ci posso salire sopra, ok? Nice. No, no! No! Dai, fra, ma non è possibile. Non è possibile. Ok. Ok. Torrione delle chiavi. Allora, qua secondo me ci sono un botto di robe nascoste. Questo è un livello bello infame. Di stelle non ne ho ancora recuperata me. No. Ecco a voi un pirletta. Per il beve devo fare. Ma è passato davvero il minuto? No! No, Luigi dove è c***o? Vai, Luigi. Oh, ma c'è il timbro di qua. Non ci voglio credere. Vabbè, a culo, eh. A culo. A culo. Guarda, c'è un cheat. E c'è anche una stella. Non ci voglio credere. Va bene. Mo' rascio davvero che porco due. Mi sono rotto le scatole, eh. Va bene. Prova, Dark. No! Fra. Oh mio Dio. Va bene. Provo a scendere in fretta, ok? Senza morire. Ci provo, giuro. Ok. È stata molto veloce. Il problema è, ma l'ultima stella? Non credo proprio. Sperando i blocchi prima da rompere. Ma dove i blocchi da rompere? Eh, sotto. Dove c'erano gli slime. Sotto dove c'erano gli slime, eh? Eh, sì. Vediamo cosa c'è di qua. Oh no, il livello 3D, quello là, per prendere le stelle. Però questo si deve fare, si deve fare. E qui funziona tutto quanto in prospettiva, praticamente, no? Devi capire dove andare. Va bene, lì c'è una stella. Si recupera. Si entra qui dentro. Non vedo nulla. Questo lo facciamo scendere. Poi io cerco di salire. Là c'è un'altra stella. Mi sa che di salire su quella a sinistra. No, fra... Cavolo. Quella si può prendere subito, fast. Ok, presa. Devo capire come arrivare là, però. Spanatti. No, dentro il tunnel. Ah, ok, sì. C'è un tunnelino qua. Oh, là. Perfetto. Recuperate tutte. Potrei lasciare questi due livelli qua, più il castello di Bowser. E poi finiamo con Bowser Fury. No, è il livello sott'acqua. Comunque io li ho sempre odiati. Dai, però. È mega lento. Eh, ma quello è un pesce martello. Esatto, squali martello. Ma mi è arrivata una seppia addosso. Tipo razzo, ma? Frapero, che fastidio, eh. Sarghi, i livelli con l'acqua non vanno d'accordo. Ma c'è una stella là sotto. Ma non posso uccidere i pesci martello qua, come si chiamano? Infatti, perché io sto provando a tirargli le bombette addosso, ma non succede niente. Avranno una stella, ecco, infatti. Eccola qua. Seconda stella. Ma ci sono tanti Doraemon sott'acqua, però. E 90 secondi per finire il livello. Sì, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Easy. Muoio per il tempo. Eh, niente. Ma scusami, ce n'è uno davanti e uno indietro. Cioè, immobilizzano la stella, proprio. Con Luigi così col fiore non puoi sparare dentro i tubi. Se non sbaglio non la toglie. Poi entrai. Ok, le toglie. Sono nognorri. Sti pesci martello sono ovunque. Com'è sta cosa? Dai, Gigi è andata. Ok, penultimo, poi c'è il castello. Dai, fossa gorgogliante. Gorgogliante. Ho capito. Eccolo il game over che tutti volevano. Arriva. Sta per arrivare. Prima del castello, attenzione. Sì, sì. Ma fra! Raga, credo basta. Credo basta, sì, sì. Basta, basta. Basta. No, no. It's saluta. No, no. No, no. Grazie per la visione!